Importante passo avanti per la nascita della nuova impresa sociale dell'ambito di Lecco, società mista pubblico-privata, che si occuperà di erogare i servizi di assistenza nei comuni del circondario. 26 amministrazioni hanno costituito davanti a un notaio l'Associazione dei Comuni Soci di Impresa Sociale Girasole, che avrà sede a Palazzo Bovara. L'associazione ha il ruolo di socio dell'impresa sociale chiamata appunto Consorzio Girasole e ha la finalità di verificare, vigilare, tutelare e salvaguardare l'attuazione e la qualità dei servizi erogati dall'impresa sociale nel rispetto dei contratti di servizio che ciascun comune stipulerà con essa. Cinque membri del Consiglio Direttivo, la Presidente Paola Giovanna Viganò, Assessore all'Istruzione e Politiche Sociali di Olginate, Vicepresidente Riccardo Mariani, Assessore alle Politiche Sociali di Lecco, Consiglieri Patrizia Vassena, Assessore ai Servizi Sociali di Valmadrera, Beatrice Civillini, Vice Sindaco di Dolzago, Sabina Panzieri, Sindaco di Costa Masnaga. È un passo decisivo a seguito della gara di evidenza pubblica verso la Costituzione dell'impresa sociale, alla quale 26 comuni dell'ambito di Lecco hanno affidato la gestione operativa dei servizi sociali nei propri territori, in forma associata mediante una società mista pubblico-privata a responsabilità limitata, scelta che ha diviso gli amministratori del territorio. Un fatto nuovo, spiega il comune di Lecco, una novità assoluta nel panorama degli enti e dei servizi, un orientamento assunto da molti anni nei piani di zona e che intende rafforzare quell'alleanza tra comuni, cooperazione e associazionismo che ha fatto crescere il nostro territorio, come auspicato anche dalle normative regionali, verso un welfare plurale e delle corresponsabilità, con i comuni forti come sempre, sottolinea Palazzo Bovara, nell'assumere le scelte strategiche delle politiche sociali. L'Associazione dei Comuni con questa scelta intende valorizzare le specificità del territorio, il suo patrimonio di collaborazioni, di pensiero e le sue capacità di integrare idee, progetti, risorse ed energie in una logica di bene comune, apprendo a un protagonismo dei territori e delle persone.